Rafforzare l'export, aumentare l'attrattività delle imprese nel territorio e sostenere gli imprenditori negli investimenti utili a far aumentare il giro d'affari. Sono solo alcune delle sfide che aspettano la Camera di Commercio di Arezzo e Siena nel 2024. Camera di Commercio che ha da pochi giorni rinnovato il consiglio che adesso ha al suo interno nomi altisonanti dell'imprenditoria aretina e del mondo delle associazioni di categoria. Dei 25 che lo compongono, prima erano 33, 16 sono in rappresentanza della provincia di Arezzo, mentre 9 di quella di Siena. Spiccano i volti di Fabrizio Bernini, imprenditore e presidente di Zucchetti Centrosistemi, Giordana Giordini, storica imprenditrice nel mondo dell'oreficeria, Franco Scortecci, attuale presidente di Estra Energia, Francesco Butali, imprenditore, ma anche quelli di Valeria Alvisi, attuale direttrice di Confesercenti Arezzo o di Roberto Menchetti, imprenditore. CNA, Confcommercio, Confartigianato, ma anche Confesercenti, CGL, Confindustria, Adconsum e Ordine dei Consulenti del Lavoro. Sono queste le sigle rappresentate in un consiglio che il 10 gennaio prossimo dovrà eleggere il nuovo presidente e vicevicario. A meno di clamorose sorprese saranno rispettivamente Massimo Guasconi, riconfermato e Francesco Butali a ricoprire questi ruoli.